Benvenuti in Giuliano Mazzuoli. Giuliano Mazzuoli è un marchio di orologi di alta gamma fondato dal designer italiano omonimo nel 2004. La missione del brand è quella di creare orologi che rappresentino la cultura italiana e la bellezza del design, con una forte attenzione ai dettagli, un design elegante e minimalista e l'utilizzo di materiali di alta qualità come acciaio, titanio e oro. Uno dei modelli più famosi di Giuliano Mazzuoli è la collezione manometro, caratterizzata da un design unico e riconoscibile. L'orologio è dotato di un quadrante circolare che ricorda l'estetica del manometro, usato per misurare la pressione dell'aria, che in questo caso si traduce in uno strumento di misurazione del tempo. Il modello manometro è anche caratterizzato da un cinturino in pelle morbida, che ne aumenta la comodità e l'eleganza. Grazie alla sua attenzione per i dettagli e alla sua passione per il design italiano, Giuliano Mazzuoli rappresenta un'opzione ideale per chi cerca un orologio di alta gamma che sia unico e raffinato. Ogni orologio è frutto di una grande passione e di una grande attenzione per i dettagli, che si riflette nella qualità e nella precisione dei suoi prodotti.